Quando si parla di Italia, si parla di formaggi, si parla di DOP e quindi di tutele. Chiaramente la domanda che ci si pone è quella come si fa poi a tutelare questi prodotti, da dove si parte? Diciamo che le DOP sono ampiamente tutelate all'interno dell'Unione Europea. Le nostre denominazioni sono tutelate, le denominazioni sono riconosciute. C'è un sistema delle DOP che funziona a beneficio di chi produce, indipendentemente da quale sia il Paese. Non è così al di fuori dell'Europa. Qui purtroppo abbiamo dei casi in cui le nostre denominazioni sono o scimiotate o peggio ancora usurpate. Ma legalmente, purtroppo, ahimè, legalmente rispetto a quella che è la legge del Paese dove avviene. Esempio gli Stati Uniti dove il nome Parmesan viene usato propriamente, impropriamente per noi, ma propriamente, conformemente alle leggi del posto, per definire formaggi che non hanno a che vedere con il parmigiano reggiano, mentre, addirittura peggio, certi altri formaggi che non hanno provveduto a registrarsi privatisticamente, hanno addirittura le loro denominazioni totalmente usurpate. Gorgonzola, Asiago, sono due esempi che sono comunemente venduti, prodotti, venduti nel mercato americano, prodotti negli Stati Uniti e purtroppo legalmente. Cosa può fare l'Europa, se non l'Italia, per poter tutelare i prodotti tipici italiani? La prospettiva europea è quella, chiaramente, che queste denominazioni possano essere tutelate nell'ambito degli accordi TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà industriale. Diversamente, dal punto di vista nostro, non possiamo unilateralmente sancire, anche se riteniamo in cuor nostro di avere ragione, che certe denominazioni sono usurpate. Purtroppo dobbiamo venercelo a riconoscere dalle leggi locali. Diversamente non avremo risultato.